Buonasera a tutti. Benissimo. Allora, buonasera a tutti. Siamo qui riuniti per il decimo Friday for Present e questa volta torniamo in differita, a distanza. Io su questo tema ci terrei a fare una bella presentazione degli illustri invitati e in particolare del dottor Pucci, a cui sono particolarmente affezionato in quanto, diciamo così, editore del libro sui beni comuni naturali essenziali alla vita che sono rappresentati dal cibo per quanto riguarda la Sardegna. Ve lo faccio vedere un attimo, non per farmi pubblicità, ma per farlo. Vediamo un po'. Eccolo qua. Vedete? Il nostro cibo. Libro scritto con Maurizio Fadda, agronomo, ed è proprio dedicato alla sovranità alimentare della Sardegna. E questo discorso sulla sovranità alimentare sicuramente ha a che fare con quello di oggi. Partiamo proprio dal titolo. Ecco, il titolo è Beni comuni e usicidici. Quale etica e quali politiche per l'uso delle risorse naturali? Intanto, una precisazione doverosa, qua dobbiamo parlare di beni comuni al plurale e li dobbiamo coniugare a usicidici. E già questa presenza della dimensione delle risorse naturali ci fa capire che in realtà stiamo su un terreno un po' scivoloso. Perché? Perché le risorse naturali sono definibili abbastanza chiaramente, magari poi proverò a dire due cose sopra, ma i beni comuni in generale sono, diciamo così, multiformi e variegati. C'è anche una cosa importante. Nella presentazione, nella stessa locandina, abbiamo inserito una precisazione. Il dottor Pucci, che abbiamo il piacere di essere presente questa sera, è il direttore della casa editrice LEF. E oltre ha già scritto molti libri, tra cui questo qua, che oggi non presentiamo, tuttavia è importante notarlo, perché è un libro che parla del bene comune al singolare. E quindi già solo tra beni comuni e bene comune abbiamo degli approcci che possono differire. Questo non vuol dire che non ci si può intendere. Io, per esempio, personalmente preferisco parlare di beni comuni perché si accorda di più con il mio particolare percorso di geografo che ha studiato l'evoluzione territoriale, la storia del territorio e delle comunità rurali. E quindi vediamo ora come possiamo capirci rispetto al discorso dei beni comuni. Un esempio attualissimo. In questi giorni a Cagliari c'è un appello alla sovrintendenza archeologica, alle belle arti e al paesaggio perché l'alberata del viale Trieste è in pericolo, in quanto tutti quelli che qua ce ne saranno vari che conoscono Cagliari e sapete che si tratta di alberi secolari, di ficus macrocarpa, che rischiano di essere sostituiti nel corso di dieci anni da alberi molto più piccoli e molto meno vitali perché tra l'altro sembra che non vivranno più di 25 anni. Di conseguenza...